Dove c'è lo yacht? Sì, stanno andando verso l'alto. La cella è rimazzata ancora navigando? Sì, sì, stanno andando. Sì, sì, stanno andando. Davide, come andiamo qua? Come andiamo, Davide? Scusate che sono qua a bloccare il punto di vista formato. Alle otto e mezza. Come andiamo a navigare il tempo? No, no. Alla prossima. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti